Sono quattro, come quattro moschettieri, ma loro, a differenza dei personaggi che è Tia Diumà, non sono tutti per uno e uno per tutti e non potrebbe essere diversamente. Ed infatti i quattro in questione sono il rigoroso ordine alfabetico Gaetano Kundari, Nicola D'Agostino, Mario Danna e Nino Garozzo, ossia i candidati alla poltrona di sindaco della città di Acireale. In questi giorni li vediamo impegnatissimi nelle rispettive campagne elettorali, ma per una volta non vogliamo occuparci dei loro programmi politici, bensì dei loro look. Sì, avete capito bene, oggi andiamo idealmente a frugare negli armadi degli aspiranti sindaci, per mostrarvi, caso mai non ve ne foste ancora accorti, quanto siano diversi in fatto di abbigliamento oltre che in fatto di idee politiche. Il candidato del PDL, nonché sindaco uscente Nino Garozzo, preferisce vestire con uno stile classico, potremmo dire istituzionale. Abito scuro, camicia impeccabile e cravatta sono i suoi segni distintivi. Pare invece non amare affatto la cravatta Nicola D'Agostino, ed infatti il bilzionato candidato dell'MPA, la giacca, preferisce portarla con la camicia dal colletto sbottonato. Né giacca né cravatta per il candidato dei comunisti Mario D'Anna, che opta per uno stile decisamente casual, che perfettamente si accorda con il capello un po' lungo a toccare le spalle, per lui sulla camicia, meglio mettere un pratico pullover. Trendy, per concludere, è il termine che, a parer nostro, definisce meglio Gaetano Kundari. Il candidato del PD, infatti, a seconda delle occasioni, passa con disinvoltura dall'elegante al casual, ma sempre con un occhio ai dettami della moda. A questo punto, sorge spontanea una domanda. Se lo stile del presidente americano Obama ha fatto tendenza, a fine elezioni, vedremo tutti o quasi tutti i maschiacesi abbigliati come il sindaco eletto? Grazie a tutti.